Oggi ragazzi siamo in questo video che noi siamo dei streamer e dobbiamo accumulare i soldini Allora, personalità Allora, ok Sì, level up Livello 2 sono arrivato Mi è proprio che postazione schifosa Guardate ragazzi, è tutto scombinato rotto Cosa c'è qua? Ah, qua possiamo fare i giochi Mobile game Questo, questo, questo Ok Oppure qua ancora, no? E qua cosa voglio, no? Mouse E poi ce lo miglioriamo ancora Cioè, proprio la mia postazione, guardate ragazzi È un casino Scusate per la parola Ah, sport games Poi vi faccio pure qua, strati games Shop, vediamo cosa c'è No, grazie Livello up Ok, livello 3 Mi sto accumulando i soldini 1.300 Aspettiamo che ci arrivino gli altri soldini What? Ho sbagliato Ehm, no, non mi interessa Sono tutti arrabbiati, cosa ho combinato? Scusate, non ho fatto niente Beh, avrò combinato qualcosa Allora Scusate, un attimo Allora non gli piacciono i nostri video No, le nostre stream Allora perché stanno arrivando 3.000 soldi Un botto Ma Sono in corrente rank Sono noob Io Non è giusto Dai Ma si possono leggere i commenti? Sì Ci sono i commenti I commenti Sono quali che arriva Ok Io sto sempre commentando di più Siamo sopra e c'è scritto Lì dove ci sono i soldini Accanto No, si sono arrabbiati Di nuovo Level up Ok Allora Dove c'è tipo ragazzi Lì dove ci sono i soldi Ehm Praticamente A sinistra ci sono Le persone tutte Le persone che guardano Ci sono in tutto 424 persone Adesso di più Vediamo Ah posso vedere quante persone Ehm Mio Dio No Intanto sto guadagnando un botto Aspettate Ok Sul simulator game Allora Poi voglio vedere come si compra Ah vero le cose si miglioravano Da qui Il mouse Schifoso sto mouse Ma io Però ragazzi Aumentiamoci i soldi Così E miglioriamo di tanto il mouse Allora Allora Aspettiamo Che ci prendiamo Altri soldini Qua poi Ah Vedi che non c'è le cuffie Cosa C'è le cose brutte Poi me le posso comprare tutte Allora che cosa sto facendo qua Qua posso migliorare la causa La La casa Allora Allora che vuole Where are you planning su bed Cosa io rispondo Cosa io rispondo Ok I hope Allora 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 Che cosa c'è qua Non mi interessa Miglioriamo No Ma Ah vero dove andrei qua Allora Mouse Ci mancano 3700 soldi Level up Ecco qua 3700 Got it Ecco ragazzi Guardate è diventato più bello il mouse Poi il mouse lo posso pure migliorare ancora Poi dove si comprano quelle cose Credo qua No Dove si compra il mouse No il mouse e le altre cose Dove si comprano Boh Questo che cosa Forse devo migliorare tanto il mouse Ah no Se vai Se migliori tanto L'headphones Guardate me la compro Ecco qui Credo di Vediamo se ce le ho L'ora dovrebbe essere Come adesso ragazzi Poi quando arriviamo al secondo livello di cuffie Noi dovremo avere le cuffie Che vogliono questi Level up Vediamo Aspetta scusate Sì Qua Forse è qua che si compra le cose Ah Qua si possono comprare i capelli Cosa Ah Frey 30 Aspetta Vedremo Un attimo Cosa mi dovrei comprare Mi piace un botto con i capelli Blu Poi non c'è più altro Niente Niente Qua cosa c'è Su Raging game Ok What Eh ragazzi Ho mancato di sì con la cosa Allora We decide dove come stream La like Ok Io questo Giusto Ho detto What's Oh Ragazzi Forse andrà benissimo How do you feel about negative comments Vediamo Rispondiamo qua Giusto Tutto Ok Continuiamo Allora Vediamo qua Cuffie Migliora Sì Ho sbloccato le cuffie Vai E le cuffie più belle finalmente Anzi Le cuffie C'ho Perché Non ce le avevo Qua cosa c'è Prendiamo Quale miglioriamo Shooter game Sono qui ragazzi E sto migliorando la mia postazione da gaming Farò pure altri video Farò pure altri video Allora Vediamo poi cosa dobbiamo comprare Poi ci compriamo una tastiera migliore Perché questa è proprio Vecchissima Farò proprio schifo Ragazzi Io per questo Vento il video Bella Adesso ci sarà Il continuo del video Stavrena che vuole Hey Gold Sia Hello Dei miei Honey Friends Ok Ragazzi Volevi con solito Io Nel video Bella